Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati su Android Mod. Oggi vi presento la ROM M1 UI, anche conosciuta come Alexander MIUI. Iniziamo vedendone le informazioni. La versione della MIUI è la 2.10.26, mentre quella di Android è la 4.1.2. Questa ROM in pratica non è altro che un porting della MIUI Jelly Bean del Galaxy Nexus per il Galaxy S2. Per quanto riguarda le impostazioni sono divise in due parti. Nella sezione Frequenti troviamo quelle più importanti come Wi-Fi, Bluetooth, sfondo, launcher, impostazioni per la barra di stato, stile indicatore batteria, ecc. Nella sezione Complete troviamo invece tutte le altre impostazioni classiche di Android con l'aggiunta delle impostazioni per la barra di stato. In questo menu potremmo impostare la nostra area delle notifiche con lo stile di Android 4.2.2, quindi con due pagine, una con gli strumenti e l'altra con le notifiche vere e proprie, oppure con lo stile di Android 4.1.2, quindi uno stile più compatto con gli strumenti e le notifiche tutte sulla stessa pagina. In più sono disponibili tutta un'altra serie di opzioni che ci permetteranno di personalizzare la nostra barra di stato oppure scegliere i comandi. Durante l'installazione della ROM partirà la ROM Installer che ci permetterà di scegliere tra tre diversi kernel e cioè il Dorymanx, il SIA e il CM10. In più potremo scegliere se installare il Control Panel di Jelly Bean, Block Ads che blocca tutte le pubblicità in app e su internet, e Beats Audio, un'applicazione per il suono. Infine potremo installare la funzione Smart Stay caratteristica dei Galaxy, che non permette allo schermo di spegnersi se lo stiamo guardando, un widget per le notizie e per il meteo, la versione 4.2 di Gmail, Mui Monitor, l'applicazione ROM Toolbox Lite, e una versione di YouTube che permette le visualizzazioni a 720p sia in Wi-Fi che in 3G. L'applicazione Jelly Bean Control Panel ci permetterà di scegliere la posizione dell'orologio, alcune opzioni per l'operatore, quindi se mostrarne uno personalizzato qui in alto a sinistra, per esempio io ho messo Android Mode, oppure se mostrare quello originale. Come alternativa potremo far comparire il logo di Google oppure non mostrare nulla. Avremo anche a disposizione delle opzioni per lo scrolling degli oggetti oppure per i colori delle opzioni, quindi potremo impostare i singoli colori degli elementi presenti nella barra di stato. In più potremo nascondere del tutto la barra delle notifiche, oppure abilitare l'app drawer. Ci basterà scegliere la posizione, quindi a destra, al centro o a sinistra, dare Enable, e adesso con uno swipe da destra, ci verrà mostrato l'app drawer. Per quanto riguarda le applicazioni di sistema sono veramente tante. Intanto avremo tutta una serie di applicazioni per la sicurezza, quindi un antivirus, un network per i dati, un'applicazione per il backup, una per i permessi di root, eccetera. Dopodiché con la ROM vengono fornite applicazioni classiche come l'orologio, la calcolatrice, un registratore, una torcia, una bussola, eccetera. E infine avremo a disposizione X2X, un file explorer, due gallerie, e cioè una quella classica della MIUI e l'altra quella di Android, un'applicazione per le note, Update.me che ci servirà per controllare eventuali aggiornamenti, e un'applicazione con i temi. Temi che sono veramente tanti. Online ne troveremo a centinaia, tutti scaricabili gratuitamente, e in più potremo scaricare delle lock screen, sfondi per la schermata di blocco e per il desktop, icone, suonerie, notifiche e altro, quindi barre di stato, tastiere per il telefono, animazioni di boot, eccetera. Quindi potete notare che questa ROM è molto personalizzabile. La fluidità è abbastanza buona, e con una pressione prolungata su una zona vuota del display, potremmo inserire i widget. Una cosa che non mi piace nulla di questa interfaccia è che siamo obbligati a tenere tutte le nostre applicazioni sulle pagine. E man mano che ne installeremo, queste si andranno ad aggiungere creando nuove pagine, a meno che noi non le organizziamo in cartelle. Infatti trascinando le applicazioni dalla schermata al cestino, ci verrà chiesto se vogliamo rimuoverle definitivamente disinstallandole. E quindi, a meno che voi non vogliate tenervi 10 pagine con tutte le vostre applicazioni, siete obbligati a creare cartelle. Per quanto riguarda l'applicazione telefono, è disponibile la registrazione delle chiamate, ma adesso andiamo a vedere la fotocamera. Fotocamera classica di Android 4.1.2 e l'unica nota negativa è che non si possono salvare le foto in una SD esterna. Andiamo quindi ad effettuare uno scatto. E come vedete non ci sono problemi né di velocità né di qualità delle foto. Ok, passiamo alle considerazioni finali. Per quanto riguarda la gestione energetica, con questa ROM sono sempre arrivati intorno alle 15 ore di uso mediamente intenso. Quindi non male, ma neanche esaltante. Il vero problema è stata la gestione della RAM. Memoria RAM che infatti è sempre rimasta sugli 850-900 MB occupati, anche senza applicazioni in uso. E capite che con un GB di RAM disponibile, averne costantemente 850-900 occupati, basta aprire due applicazioni e già la ROM diventa inutilizzabile. Infatti, ascoltando musica oppure scaricando a Play Store, non riuscivo praticamente a fare altro. I giochi diventavano impossibili da utilizzare e anche applicazioni come i messaggi avevano le azioni ritardate di 10-15 secondi. Parlando con un mio amico mi ha detto che, quando l'aveva provata la ROM non gli era piaciuta granché, tuttavia non aveva riscontrato problemi di scattosità così gravi. Quindi, se deciderete di installarla, è possibile che a voi vada alla perfezione. Io non me la sento di consigliarvela, perché è una delle poche forse l'unica che avrei veramente voluto cambiare a metà settimana. Tuttavia, se deciderete di provarla, fatemi sapere che cosa ne pensate e soprattutto se avete gli stessi problemi oppure se va tutto liscio. Perfetto, questo per oggi è tutto. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, ricordatevi come al solito il mi piace, di condividerlo e di far conoscere il canale. Se volete consigliarmi una ROM o un'applicazione, avete qualche dubbio o semplicemente volete farmi sapere che cosa ne pensate dei video, scrivete pure nei commenti qui sotto oppure su Facebook o Twitter. I link per scaricare la ROM ve li lascio in descrizione e quindi io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima. Ciao a tutti!